Le rivelazioni scioccanti di Sofico Degonia Verissimo, che ha raccontato che Alessandro Basciano l'ha tradita con una donna ad Ibiza mentre lei era convinta che fosse a piangere a Milano, hanno scatenato un vero e proprio terremoto. Uno scoop che il DJ Ligure ha commentato poche ore dopo, dando anche mandato al suo avvocato. Cinque giorni fa mi arriva un messaggio di una ragazza. Erano uscite delle foto di Alessandro con una donna in aeroporto. Lui mi ha detto che era stato a Ibiza per lavoro e che era stata scattata una foto con una ragazza nella lounge. Però mi ha detto che era una turista inglese che gli aveva chiesto informazioni. Poi mi è arrivato un messaggio, ciao Sophie. Era la ragazza dell'aeroporto. Mi ha detto che ha passato con lui tre giorni a Ibiza. Lui le ha pagato i voli. Le ha anche detto non pubblicare nulla perché la mia ex è pazza e poi mi fa problemi con la bambina. La trattava come se fosse la sua fidanzata. Una ragazza che, secondo quanto riportato da Fabrizio Corona su Dillinger News, sarebbe Ergiona Sulegmani, modella albanese ed ex di Bleringe Miley, calciatore svizzero che ha militato anche nel Napoli. Sophie Codegoni si è aperta con Silvia Toffanini in una versione molto commossa e diversa rispetto a quella che siamo abituati a vedere sui social, si legge sul sito di Corona. Ha detto chiaramente di essere stata tradita e di sapere che la ragazza sia l'ex fidanzata di Basciano che noi presumiamo sia Ergiona Sulegmani. La notizia è stata commentata dalla stessa Sulegmani, che ha però smentito categoricamente.